Avete visto domenica c'è le elezioni alla California, in piazza si vota per il presidente americano. Siamo tutti americani di domenica 31 o sopra, alla California. Vi vogliamo comunicare con altre Californi del mondo. Le elezioni del Presidente Unito, cosa pensate sull'idea? Questo è il futuro. Purtroppo qui le onde sono rare, invece là in California sono delle belle onde. Tutti i giorni, caldo, sole, onde, onde.